Ehi ha ragazzi, bentornati o bentornati sul mio canale, io sono Magnus Dopo l'ultima partita ho avuto l'impressione che abbiamo giocato un pochettino di più Quindi vuol dire che qualcosa stiamo migliorando, almeno nei passaggi ho visto che abbiamo preso più B Comunque non ci perdiamo l'animo e andiamo sempre avanti perché il 2 novembre c'è subito un'altra partita Ti prego Shaquille aiutaci, aiutaci, dacci una dritta, un consiglio, qualcosa, oltre al ritiro Ah il nostro consiglio, il consiglio di Shaquille Orell è di spararci, che cazzo, grazie a Shaquille, grazie Ok, speriamo di avere una buona notizia E almeno sperare di giocare come titolari dall'inizio, dai Ok, forse Uuuuh, iniziamo subito quando la presenta il show No, no, no Purtroppo non c'è niente da fare, iniziamo sempre dalla panca, sempre dalla panca Ok, prima parte, vediamo come siamo messi... Cazzo, porca miseria ragazzi, siamo già sotto i 12 punti E vabbè però, io che ci posso fare, vabbè dai giochiamo, cerchiamo di non sbagliare Ah, 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 ah Eh che palle, non potrai mai segnare da quella distanza, dai E dai, se me la dai Può essere che io sono il playmaker Guarda che sto qua, eh, guarda che sto qua Ok Eh, hai visto, bravo, egoista, egoista Eh, lo so, ma non può essere mai mio questo Questo non può essere mai mio, il mio è questo, eccolo qua E infatti io sono sul mio uomo che ho perso, naturalmente Bravissimo, che Grande ragazzo Grandissimo errore ho fatto, l'ho perso proprio totalmente Attenzione, attenzione Non lo sto marcando, eh Cazzo, come siamo marcati Non lo perdere, non lo perdere Non lo perdere, non lo perdere Magnus Non lo perdere, cazzo, non lo perdere Dai, cerchiamo di recuperare la palla Oh, eh, ma non c'è nessuno là sotto Ragazzi, ma se non marcate Eh Vabbè, dai Cerchiamo di recuperare subito, eh Ok Però, eh, ma ragazzi, ma giocate praticamente da soli Ok, perfetto Buon movimento anche Dai Ammio, ammio, ammio Oh, attenzione, attenzione No, no, no Oh, cazzo l'ho perso Ma così non ci si può Dai, dai Non lo perdere, non lo perdere Cazzo sta Ok, dai, dai Dai che è mio No, l'ho perso Troppo veloce, troppo veloce ragazzi Non ce la faccio Porca miseria Ora capisco perché C'è tutto questo divario Questi sofforti, eh Guarda che sono andato dentro Sono andato dentro Sono andato dentro E vabbè, ma quando me la dai Cioè, me la sono chiamata 20 minuti prima Me la hai data dopo 30 volte Avevo fatto Era andato dentro Alla grandissima Dai, dai, dai Questo è mio Aspetta Questo è troppo alto per me Troppo alto È vero che sono basso Attenzione No, non riuscirai mai da lì Ok, dai Dalla Qualcuno che si fa vedere Qualcuno che si fa vedere Qualcuno che si fa vedere Dai, dai ragazzi Guarda, sei solo No, non è neanche entrata Che palle Se non segni Ti ammazzo Ma dai Ma dai Dai, concentrati Ma che schiappa Dai Ma porca miseria Vai, 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 vai E dai Sì, le farfalle Salta Magnus Le farfalle prendi Dai, dai Dammela qua Vabbè ragazzi Però c'è Anche lui Non è che poi Vai, dai Buon passaggio Ti togli dalle palle Attenzione Ma perché ti metti davanti Guarda, guarda Guardami Guardami Eh, che palle Mamma mia Ragazzi Per chiamare la palla Ma porca miseria L'ho dovuta chiamare 30 volte Cioè Io capisco Che non è che sono forte Magari faccio schifo Non me la volete dare Però Cioè Sto da solo Sto da solo Mamma mia E vabbè E vabbè Contro questi Che vogliamo fare And a moment now To hear from Steven Adams As he reflects back In a life Growing up As the youngest Of 18 children Back in New Zealand So Like the youngest That has to do Everything Like all chores Pretty much 18 years Of being rookie That's pretty much All it is And people Just beat you up For no reason Ok Vediamo un po' Se almeno Sono migliorati Oh 24 32 Forza 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 Ragazzi Allora Veniamo fuori Sulla distanza Ok Dai Cerchiamo di Accorciare Ancora un altro po' Sono soltanto Cazzo Cazzo L'ho perso Non ti mettere di qua Non ti mettere di qua Ok Dai 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 Bloccalo Placcalo Vai vai Non lo fa scendere Non lo fa scendere Ok Grandissimo Grandissimo Mi faccio vedere Ok Di qua No Ok Grande 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 Questo è stato Un tre puntone Esagerato Dai 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 Non lo facciamo Arrivare alla lunetta Non lo faccio Non lo fa Arrivare alla lunetta No L'ho perso Cazzo Ok Lo sto difendendo Questa l'impervista Mi scatta Non lo fa scendere Non lo fa scendere Non lo fa scendere No Ma che Palle Dai 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 Cerchiamo di farci vedere Cerchiamo di farci vedere Vai 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 Guarda che sono allo dentro Guarda che sto dentro No Ma non così Però Cavolo 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 Non possiamo Perdere Oh mio 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 Non possiamo Perdere punti così Eh Vero che me la sono chiamata Però Vai 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 Ma no Ma che bralla Ma che fai Ma dai L'hai riperso di nuovo Madonna Santa Cioè No 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 Ok Aspetta Ecco Questo dove scatti Dove scatti Cazzo Eh lo sapevo Fa tutto da solo Questo Aspetta Aspetta Solo che Anche loro Anche loro fanno Tutta la sola Solo che loro Vanno a canestra Noi no Eh dai Cerchiamo di non peccare Troppo di egoismo Ok te la ridò subito Guarda guarda Ah cazzo Oh 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 Guardami Aspetta Alla dentro così Aspetta Guarda No Vai vai Aspetta Brandissimo Questo è stato Un grandissimo punto Eh bravo 31 a 38 Ok vediamo fuori Dopo l'intervallo Non credo che giocheremo Subito di già Eh ma infatti no Vediamo come siamo messi 94 È già finita Non ho visto il risultato Però eh Non ho visto il risultato Ho visto soltanto Che noi stavamo a 94 Cazzo 94 95 Che peccato Che peccato Abbiamo riperso Vabbè Sudo scarso Vabbè Ormai ci siamo praticamente Abituati Ormai Vedete ci possiamo chiamare Magnus Schiacci Scarso Il 2K Sporz Postgame Show Ernie Johnson Qui con Shaquille O'Neal E Kenny Smith Sem più Presenta Russell Westbrook When you face Westbrook You always Going to have Your hands full And tonight You prove that Once again ok ragazzi sono convinto che piano piano con un poco più di esperienza sicuramente cercheremo di toglierci questo scarso da dosso comunque spero come sempre questo video vi sia piaciuto non vi dedicate sempre di commentare non vi care sempre di mettere mi piace noi ci vediamo sempre al prossimo video e bye bye